ciao a tutti benvenuti nel mio canale vediamo la settimana dal 29 al 4 di giugno come scelta vediamo un po vi faccio scegliere tram la campanellina rosa bianca e le colombine va bene vado a mescolare davanti a voi quindi non dovete scegliere il mazzetto iniziamo subito con la campanellina vediamo un po per te che hai scelto che hai scelto la campanellina vediamo un po la settimana che novità ci saranno o la 5 di spalle che succede caduta caduta e allora direi di lasciarla perché mi è caduta proprio nella posizione del metodo di lettura che devo fare allora diciamo che qui la situazione viene da un qualcosa di antico di vecchio di una da una situazione è come se qui ci fosse una una spina nel tuo fianco che ti accompagna per tutta la vita questo 5 di spade che ho visto in contrasto adesso con il 6 di pentacoli non è un malessere oppure una cosa storta quotidiana della della settimana qui c'è ok cioè nella vita di ognuno di noi c'è a volte qualcosa di irrisolto un problema che ce lo portiamo ma un qualcosa di molto radicato di molto profondo di molto serio di molto importante qua non si tratta che magari andate in panne la macchina o che non hai trovato il parcheggio qui si tratta di un qualcosa che non sei un nodo che non sei ancora riuscito a risolvere e di contrasto qui c'è come se c'è un contorno di persone che ti dovrebbero aiutare che però non ti stanno aiutando e qui come se il problema di fondo fosse il mancato aiuto da parte degli altri è chiaro che qui si vorrebbe dare una svolta a questa situazione qui e me lo dice la carta chiarissima me lo dice la carta chiarissima della ruota vedete si vuol superare anche i tarocchi poi si leggono anche in base alla direzione in cui guardano le figure vedete qui c'è la carta del matto che va verso il futuro è la carta della ruota che è una carta bellissima quindi in ogni situazione vedete dove qui si parte da un 5 di spade con la ruota significa rovesciamento di situazione o comunque qui c'è proprio da parte del consultante da parte tua tutta l'intenzione di superare di capovolgere di lasciarsi alle spalle questa situazione che ci ha fatto ci ha fatto tanto male quello che ti posso dire sempre in relazione al passato 5 di spade più lotto di spade mi parla di una situazione che non dipende soltanto da te e me lo dice anche questo sei di pentacoli perché praticamente qui c'è la carta del blocco lotto di spade è la carta di un qualcosa che ti impedisce vorresti vorresti fare vorresti risolvere ma c'è qui la carta del blocco però ce l'ho nella situazione del passato quindi certamente mi potrei dire vedi io in passato già volevo risolvere questa situazione non ce l'ho fatta perché sono stato bloccato da o da qualcuno qui ribadisco c'è una figura maschile che forse ti doveva aiutare per qualcuno potrebbe essere un figlio i figli problemi con i figli situazioni non buona situazione che non va né avanti né dietro allora a meno che tu non abbia vent'anni si può parlare di un amico magari un amico con il quale ha i dei problemi se ha invece un'età un po più grandicello grandicella qui si potrebbe parlare di problemi con i figli di una situazione bloccata con i figli perché ribadisco lotto di spade in tutte le situazioni in cui lo andiamo a consultare è sempre una carta di blocco però l'intenzione tua sarebbe capovolgere andare avanti non so forse vuoi prendere una nuova iniziativa forse vediamo un po andiamo andiamo oltre non mi fate parlare qui c'è anche un po una scelta c'è forse qualcuno che ti dice di lasciar perdere questa situazione però qui c'è il tuo cuore la tua testa che è combattuta perché c'è una parte di te che vorrebbe risolvere alla radice questa situazione però ripeto il 5 di spade non è una una cosetta storta il 5 di spade è un grosso problema una grossa mortificazione che ti porti dietro anche da parecchio tempo quindi qui non so se vicino a te c'è un qualcuno che ti no che ti istiga però che ti dice come sai lascia stare lascia perdere tutto tu sei qui nella tua scelta vorresti risolvere la situazione una volta per tutte allora in questa situazione non lo so sia il maschile che il femminile ti dico fai attenzione alle figure maschili vicino a te anche se tu sei l'uomo quindi degli amici che ti promettono che non aiutano invece qui vedo favorevole il rapporto con una donna una donna vicino a te con la quale puoi fare un qualcosa di interessante anche non vedo qua necessariamente le questioni di cuore ma qui può essere anche una una socia una collega con la quale c'è destinato a fare un qualcosa insieme di produttivo allora ho chiesto per quanto riguarda la carta del cavaliere questa qui che ho detto possono essere i figli qualcuno di più piccolo rispetto a te con il quale c'è qualche problema abbiamo la carta dell'ufficiale allora qui siccome vedo un qualcosa di serio non lo so qui potrebbe essere qualcuno che con i figli a questioni di come posso dire dove di mezzo c'è l'avvocato il giudice situazioni che vanno sistemate con un intermediario un professionista del genere forse però siccome qui c'è la tua volontà di superare questa situazione qui il matto con la ruota è l'ufficiale potrebbe significare anche che per risolvere tu una situazione o per i tuoi figli o per qualcuno di più piccolo io vedo le figure giovani più giovani di te con le quali ci sono dei problemi e tu vuoi risolverli forse sei tu che ti se non ti risuona già una situazione del genere dove di mezzo c'è una figura del genere forse ti devi rivolgere a una figura del genere che ti aiuti a risolvere la situazione vedi ragazzi quando ho detto attenzione agli uomini vicino a te l'avvoltoio agli uomini altre cose che vedo per la tua stesa dopodiché mi fermo io ribadisco attenzione alle figure maschili vicino a te perché ci può essere qualcuno che veramente promette e non mantiene qualcuno che veramente ti delude a qualcuno che si comporta da nemico qualcuno che trama contro di te anche degli intrighi e degli ostacoli però poi io vedo che è una situazione a parte per te che c'è una figura femminile a per te favorevole con la quale o è lontana dal tuo luogo in cui vivi ma comunque come tu con questa persona ci devi fare un qualcosa un'impresa un'iniziativa insieme però questa persona non la vedo del tuo posto io la vedo una persona o che tu devi raggiungere da qualche parte o per qualcuno a cui ci potrebbe essere anche addirittura all'estero io qui vedo distanza chilometrica viaggio è una figura femminile con la quale fare un qualcosa di produttivo qualcosa insieme a qualcosa anche lontano dal tuo luogo in cui sei comunque io vedo la lontananza e raggiungersi io vedo il viaggio il viaggio anche non non vicino qui per qualcuno ci potrebbe essere anche il mare di mezzo ma come minimo qui io vedo la distanza chilometrica quindi vedi un po se è una donna che deve venire a te se sei tu che ti devi spostare da questa donna cosa devi fare con questa donna quindi riassumendo attenzione alle figure maschili vicino a te chi promette non mantiene e si comporta da voltoio un viaggio a distanza chilometrica con una donna un'impresa un qualcosa di positivo da fare con questa donna una figura di intermediario figure di figli figure di persone più piccole di te una situazione che bisogna vedere se questa situazione è legata a un grosso dispiacere perché 5 di spade purtroppo è una cartaccia io la volevo togliere quando mi è caduta mi è caduta proprio esattamente nella posizione in cui la dovrei avrei dovuto metterla io e quindi ho deciso di lasciarla qui dal blocco al 5 di spade sono carte pesanti c'è questa situazione non lo so la vedo legata a questi un figlio dei figli problematici non so che cosa succede qui però qui c'è la tua intenzione di risolvere queste situazioni qui tu vuoi andare a capovolgere tu vuoi andare a capovolgere la ruota questa situazione probabilmente grazie all'aiuto di un intermediario ok adesso andiamo a vedere l'altro mazzetto allora per te che scelto la colombina se lo sapete ormai se si blocca il video faccio la seconda parte a non vi ho detto ovviamente il messaggio che dico sempre se volete fare un consulto privato mi potete scrivere assaineri 96 gmail.com allora per te che hai scelto la colombina andiamo a vedere ok il papa regina di coppia iniziamo bene qui di mezzo c'è un uomo e c'è una donna e qua è come sembrerebbero che la donna un po di ostacolo all'uomo vediamo un pochettino di che si parla qui ho una donna contro un uomo tu che sei in conflitto con un uomo allora te lo dico subito qui c'è una coppia che va avanti nonostante 10 di spade la morte al contrario nonostante come se il rapporto fosse finito ma qui rapporto rimane un rapporto diciamo di circostanza che rimane avanti 10 di spade è la fine di un anche di un rapporto che si è elogorato un rapporto che ha fatto soffrire mondo al contrario allora qui c'è la consapevolezza di un rapporto che non va più che però rimane in piedi sotto forma di rapporto ipocrita qui c'è un re e c'è una regina lo vedete qui sotto qui c'è un re e c'è una regina di traverso una morte al contrario al contrario la morte mi dice sì è vero che fin di rapporto però è una morte non morte una morte apparente perché qui si rimane insieme si rimane insieme ma quel grosso dello schifo diciamo fra queste persone è già successo la figura maschile potrebbe essere molto impegnata lavorativamente questo diciamo è un dettaglio è un dettaglio in più che vi dico qui è successo anche qualcosa che ti ha tanto appesantito c'è stata l'intenzione veramente quasi decisiva di chiudere tutto però poi arriva a fine sotto 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 e si e viene fuori la carta della temperanza c'è un rapporto dice va bene dai ero lì per lì per buttare tutto all'aria e non l'ho fatto non l'hai fatto nemmeno questa volta per la figura femminile ma io comunque cioè non so io con chi parlo non escludo pure per la figura maschile ci può essere una nuova conoscenza o comunque per la donna ci può essere un'altra figura maschile però io la posso vedere un po nel futuro cioè come se magari qui una nuova iniziativa è una figura una figura se qui c'è una donna tra chi mi ascolta c'è una donna insoddisfatta che mantiene avanti un rapporto tanto per mandarlo avanti o perché non può chiuderlo anche perché ne so io per questione economica no qui però c'è una figura maschile per lei che diciamo aiuta a compensare aiuta a compensare abbandono non abbandono